Allora cari amici facciamo un piccolo passo avanti nelle pilloline recentissime e che naturalmente potete trovare sul mio canale abbiamo spiegato che gli stati sono tre, i veri stati, il Vaticano, Washington DC che non per caso non si chiama più DC, ha cambiato denominazione poi ne parleremo meglio e la City di Londra. Tutti gli altri, tutti gli altri abbiamo detto che sono invece stati corporazione, tutti gli altri sono stati corporazione e abbiamo anche detto che la corporazione Italia è fallita. Ora ripeto facciamo un passettino in più e parliamo della famigerata famiglia Rothschild. i Rothschild sono i proprietari dell'intero sistema finanziario globale. Tutto, 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 tirano i fili di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. La loro attività più redditizia è attualmente ed è sempre stata da secoli quella di fare la guerra o meglio di far favorire la nascita di guerre. in giro per il mondo finanziando, finanziando spesso e volentieri quasi regolarmente tutte le parti in causa. Già ai tempi di Napoleone si finanziava Napoleone e si finanziavano anche i nemici di Napoleone, naturalmente lasciando gli uni all'insaputa degli altri, in modo tale che chiunque, che tutti avevano debiti con i Rothschild e chiunque avesse vinto avrebbe poi dovuto riconoscere e onorare questi debiti. Infatti la parola principale, la parola più importante, la parola chiave è debito. debito. Il debito che deve essere creato a monte, necessariamente a monte, cioè prima di poter creare, prima di poter stampare del denaro per poi ripagare il debito che si è creato a monte. Il sistema è sempre questo, il format è sempre questo e viene ripetuto in continuazione. Il giochino alla fine è sempre lo stesso ed è anche molto semplice. Tanto per capirci, i Rothschild, voi credete che io esageri la loro importanza? Allora, i Rothschild possiedono in toto, in toto, in tutto, completamente, al 100% l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale. Poi se non vi basta sappiate che possiedono anche, sono gli azionari, i maggiori azionisti della Banca Mondiale, Banca Mondiale. Sono loro i maggiori azionisti e poi tutti gli altri azionisti sono pochi nomi di poche famiglie di banchieri. Quindi mi pare di avervi fatto fare detto qualcosina in più di sostanziale. Infine, per finire questa breve pillolina, vi ricordo la celebre battuta che non so di chi è, che poi è celebre, è una battuta, ma non è una battuta, perché risponde comunque a verità. E che in sostanza, parola più parola meno, dice c'è un reato più grave che rapinare una banca. Fondarla, fondarla. E è detto tutto. Quindi abbiamo parlato anche un po' succintamente dai Rothschild, della loro importanza, del loro trucchetto, del debito che va creato a Monte prima di stampare denaro per pagare il debito e del fatto che loro sono responsabili di aver favorito per secoli, guerre, guerre e guerre. Detto questo, ci fermiamo per il momento. Vi ricordo il mio canale, Giorgio Riccardin, il canale muletto, Giorgio Riccardin 2, mi riferisco a YouTube naturalmente, e poi il canale Telegram, Giorgio Riccardin. Grazie e alla prossima videopillolina. Con una precisazione, queste cose che vi dico non sono farina del mio sacco, molti di voi mi diranno, ma io già le so, è vero, perché sono già di pubblico dominio, sono stati tanti altri a parlarne, chi li sa già, li ascolta e volentieri un attimino che male non fa. Poi vedete come è condenso in brevi pilloline. E chi non ne era conoscenza, sappia che questi video sono rivolti proprio a lui, per cercare di diffondere ancora un po' queste informazioni. Grazie e alla prossima.